Ipem, Tupet, prima o poi imparerò a dirlo Tami, non lo so, io no, non ce la posso fare, devo imparare, no no, proprio non riesco a articolare, ma è un problema mio con tutte le lingue in generale, ah ok, non è il bioma, no, 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 è proprio le lingue, ho capito, va bene, allora, si è collegato con noi, l'abbiamo detto prima della pausa, chi sarebbe arrivato ed eccolo qui, Chico Dossi, buongiorno Chico, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, Allora, per chi non lo conoscesse, Chico Dossi è un autore, un regista teatrale, autore, giusto Chico, di Nell'occhio del labirinto, che è in scena in questi giorni all'elfo Buccini, giusto? Esattamente E che cos'è questo Occhio del labirinto? Come ci finiamo Nell'occhio del labirinto? Cosa ci troviamo dentro? Nell'occhio del labirinto innanzitutto è un monologo sul caso Tortora, che le persone che erano già adulte quando tutto questo è successo, si parla degli anni Ottanta, ricordano bene le persone della mia età, io sono del 94 e seguenti, non lo ricordano assolutamente. Tortora era un conduttore televisivo, l'equivalente odierno sarebbe Amadeus a livello di popolarità e di visibilità e Tortora da un giorno all'altro è stato arrestato nel cuore della notte a Roma per capi di imputazione gravissimi, cioè spaccio di droga e associazione camorristica. Lui si rivelerà assolutamente strano ai fatti, anzi i fatti si riveleranno addirittura a non sussistere, perché Tortora era totalmente innocente. Al tempo era stata promossa una legge sul pentitismo che permetteva ai pentiti di mafia di ottenere notevoli sconti di pena se avessero fatto dei nomi importanti, questi pentiti si sono accordati per fare il nome sensazionalistico, la stampa è andata dietro a questo pettegolezzo ed è stata rovinata la vita a una persona innocente. Come mai, tu sei del 94, com'è che ti sei appassionato ad una storia che molti direbbero, io so già che se chiedo di là in regia, ahimè sono bravissime, ma sono molto giovani e mi rispondono boh che delle storie non c'ero, mi dicono così. Com'è che tu invece ti sei appassionato a questa storia? Allora io ho incontrato questa storia in maniera molto casuale, vicino all'università in cui studiavo c'era a largo Enzo Tortore e quindi a furia di passare ho deciso poi di informarmi prima su Wikipedia e poi leggendo dei saggi. Penso che raccontare questa storia che a mio modo di vedere è anche stata raccontata molto molto poco, sia un modo di provare a legare quello che per me è già storia, perché comunque è un passato molto prossimo, ma effettivamente è già storia all'attualità. Se ci pensiamo oggi il problema della giustizia è un problema ancora molto presente in Italia, la battaglia di Tortore non è ancora stata combattuta a pieno, per cui è sicuramente una storia che va ricordata, una storia da raccontare, anche perché nel momento in cui ci troveremo a dover avere nel dibattito pubblico veramente delle questioni di giustizia potremmo poi essere più liberi e più informati di decidere se la condizione carceraria ci va bene così oppure c'è qualcosa che non va, se la condizione dei tribunali ci va bene così oppure non è tollerabile che un innocente finisca in carcere per un petticolezzo giudiziario. Posso fare una parola? Vai, 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 stai dicendo, ecco, volevo parlare la parola a Tamara, ma a Leo, vai. No, allora, io ho visto lo spettacolo e mi aveva colpito una cosa in maniera fortissima. Simone Tudda che l'interprete in scena e che appunto porta in scena la figura di Tortora, c'è un passaggio che appunto a me ha dato un grande riferimento all'oggi, cioè l'idea che Tortora era riuscito a dare in qualche modo un po' di luce a un tema molto complesso e molto difficile che chiaramente non voleva essere toccato, diciamo così, dall'opinione pubblica. Pensiamo a quante persone invece devono affrontare una situazione del genere e non hanno un nome, e quindi la luce su di loro si spegne immediatamente, non possono in qualche modo arrivare a raccontare la propria storia e il loro percorso è ancora più difficile. Allora volevo chiedere a Chico Dossi quanto appunto il tema della giustizia oggi, secondo me, è molto attuale, ma in realtà non viene raccontato nei dibattiti televisivi in maniera concreta, in maniera, diciamo così, propositiva. Viene spesso strumentalizzato dall'uno dall'altra parte politica. Allora, siccome Chico Dossi collabora appunto anche col teatro della cooperativa, quanto secondo lui il teatro può portare in luce un tema così forte, così importante, partendo da una figura come quella di Enzo Tortora? Sicuramente tanto, a mio modo di vedere, perché forse il teatro anche rispetto ad altri media dal vivo è più luogo della riflessione, per cui si può impostare anche un'indagine un po' più raffinato, comunque un po' più dibattito. Anche di approfondimento. Esatto, di approfondimento dal momento che effettivamente la questione carceraria intanto non interessa a molti, perché spesso pensiamo che non capiterà a noi. Esatto, non ci riguarda. Dobbiamo anche stendergli dei ponti d'oro dopo che questa persona ha commesso un reato e quindi dobbiamo venire l'incontro, in realtà è evidente che la questione carceraria sia una delle prime questioni in una società democratica e che non vuole punire i propri cittadini, ma li vuole rieducare. Infatti è evidente come il, ad esempio, il tasso di recidività salga vertiginosamente nei paesi in cui non c'è un rientro nella società e questo è anche quello per cui ha combattuto Tortora, non solo per garantire che un innocente non finisca in carcere o se ci finisca per un errore giudiziario sia tutto risolto nel giro di poco tempo, ma anche perché le persone effettivamente colpevoli non possono stare in situazioni carcerarie tremende, non possono ritrovarsi. sia il nostro dovere in quanto società a far sì che queste persone una volta uscite non ritornino alla vita precedente, alla vita che li ha portati in carcere, ma che trovino un modo di reintegrarsi nella società e diventare membri funzionali di questa società. Peraltro scusami se ti volevo soltanto dire un'altra cosa velocissima, che è facilissimo, cioè diciamo nel processo anche mediatico è facilissimo dare la colpa e creare il mostro e poi è difficilissimo invece raccontare quanto invece diciamo il processo di giustizia e di innocenza invece non viene raccontato, magari c'è un trafiletto piccolissimo o magari non viene neanche raccontato in moltissimi casi, quindi è facilissimo puntare il dito, è molto difficile invece raccontare poi come sono andate veramente le cose, perché poi l'onda mediatica è facilissima in questo caso. Benissimo, allora io Chicco ti chiedo di rimanere qui con noi collegato e Tami tu non scappare dallo studio perché adesso andiamo un attimo in pausa e poi ricominciamo ancora a parlare di teatro perché insomma è fondamentale, in una città come Milano non si può raccontare questa città a prescindere da quello che succede nei teatri milanesi che sono davvero fondamentali e poi quando si parla di questi casi insomma sono anche un momento importante di informazione ed educazione che dovrebbe diventare come dice sempre Tamara anche un'abitudine giusto Tami? assolutamente. E allora andiamo avanti con un po' di musica, adesso sono The Cranberries con Zambi e poi torniamo qui, sempre qua su Cristal Radio con Good Morning Milano, a fra poco! Casa mia, Gali! Ciao Gali, ricordo sempre che casa tua è qua a Baggio, quindi ti ricordo sempre che siamo qua ad aspettarti ed è casa sua anche per Tamara Malleo che è qui con noi in studio e Chico Dossi, collegato, che questa sera andrà in scena con il suo spettacolo insieme appunto a Simone Tudna che interpreta proprio lui, no? Cioè è Tortora in scena, giusto? Cioè è un po' questo il concetto, giusto? Sì, non solo, è un monologo tra la narrazione e la mia persona. Perfetto, appunto con Nell'occhio del labirinto al Teatro del Fupuccini, in scena fino al 18. Bami, dimmi Tami, cosa volevi chiedere? No, perché appunto io tendo molto a puntare sulla parola e siccome so che Chico Dossi ha lavorato moltissimo su questo spettacolo e lavora in generale molto sulla parola, appunto affidando le parole a Simone Tudna quindi a un interprete che ha portato sul palco comunque una grande umanità senza cadere mai troppo nel sentimentalismo, ma arrivando proprio a un'umanità vera, per cui ci sono anche, è un'umanità fatta di contrasti così come l'uomo, non c'è soltanto la parte bella che spesso, io stesso lo dico che lavoro in televisione la televisione racconta, no? C'è una parte anche fatta di contraddizioni però secondo me Chico Dossi ha lavorato molto bene su un linguaggio che potesse permettere all'uomo di venire fuori e quindi ha un racconto umano, ma anche appunto ha una storia più universale che comprende, cioè che potesse coinvolgere anche altre situazioni simili a quella di Enzo Tortola allora volevo chiedere a Chico Dossi come ha lavorato sul testo per permettere appunto all'umanità quindi a un uomo che lui non ha conosciuto ma che appunto è arrivato a lui attraverso la curiosità di entrare in contatto con un personaggio della storia d'Italia e una storia che appunto è anche molto vicina a noi, molto concreta, che invece in realtà non si conosce e come l'ha consegnata poi a Simone affinché poi sul palco si creasse questa sinergia tra umanità e universalità ti aggiungo un pezzo, poi come nasce questo binomio, appunto questo duo tra te e Simone? questo dopo raccontacelo magari ok, procedo per ordine che se no mi dimentico allora, innanzitutto la grande trappola a mio parere di un testo come il mio è quello di o scadere nel racconto storico per cui essendo che è basato su una storia vera è una storia vera, il grande rischio è di dire eh ma è successo questo quindi lo dobbiamo raccontare in questo modo magari perdendo anche un po' la dimensione teatrale quello che ho voluto fare io è concentrarmi sul personaggio Tortora proprio come se Tortora fosse un personaggio di cinematografico addirittura di finzione quindi ho cercato di capire quale potesse essere il suo arco narrativo infatti credo che uno dei temi del personaggio Tortora sia la ricerca della propria identità ma Tortora è un personaggio che arriva faticosamente a ottenere la propria identità di conduttore televisivo, di personaggio pubblico che intrattiene gli italiani mentre fuori c'è la morte, ci sono gli anni di piombo, ci sono le stragi di Stato e da un momento all'altro si trova totalmente spogliato di questo ruolo anzi ridotto allo strego di tutte le persone che eh da qui diciamo lui ehm distoglieva l'attenzione dell'Italia eh abbiamo ho deciso poi di tenere i punti saldi della vicenda di Tortora in maniera tale da eh ovviamente rendere il contorno storico eh culturale eh politico dell'epoca eh tenendo però ben saldo il diciamo l'arco narrativo di di Tortora ne è venuto fuori un monologo, il monologo è scritto in versi liberi se eh guardate la 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 pagina che si è trovato Simone da studiare eh ci sono molti capoversi, c'è una struttura ritmica molto forte non in rima, non c'è un metro rigido ma eh aiutato Simone almeno per quanto mi ha detto lui poi magari mente scherzi a parte lo ha aiutato a eh memorizzare a trovare un ritmo, a trovare una cadenza a trovare il proprio personaggio di Tortora all'interno di testo tra l'altro io e Simone mh non ci siamo inizialmente conosciuti di persona anzi siamo stati presentati da un amico eh che aveva lavorato che un amico mio che aveva lavorato con lui a abecedario per il nuovo mondo che era un podcast del piccolo teatro di Milano eh Simone ha fatto la scuola del piccolo teatro questo amico in comune mi ha consigliato eh di provare a vedere se Simone poteva essere interessato a un progetto del genere e effettivamente lo è stato è stato un buon consiglio è stato quindi assolutamente ah bene 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 quindi dicevi appunto allora quello che dobbiamo toglierci dalla testa è quella dell'idea di venire a vedere un documentario su Tortora cioè non è quello, non è quella narrazione dove mi dici è successo A, B, C, D e si va avanti così ma quindi una presentazione appunto dicevi del personaggio scusate, della persona, dell'essere umano quasi anzi molto più profondo oltre il personaggio televisivo eh dopo aver studiato questo caso e questa storia qualcosa del genere succede ancora? può ancora succedere o succede solo come diceva prima Tamara a coloro che non hanno i fari accesi addosso? è una situazione molto particolare il mio modo di vedere perché se da una parte abbiamo forse oggi una pluralità di informazione molto maggiore un tempo se il quotidiano autorevole diceva Tortora è un quamorrista ci si credeva anche perché non ci si poteva informare altrove adesso forse da una parte c'è la possibilità di informarsi dall'altra l'agonia mediatica è molto molto più stringente molto molto più forte e quindi è anche difficile eh di strecarsi ad oggi non so se potesse se fosserebbe possibile eh un altro caso Tortora sicuramente forse non con queste stesse modalità però eh come come diceva Tamara eh è molto possibile che una persona venga ingiustamente accusata che l'opinione pubblica si faccia un'idea eh sbagliata e anzi basata su calunnie su questo personaggio e poi il diciamo il il rovescio della medaglia lo scagionamento di questo personaggio avrebbe poi se potesse avvenire su un trafiletto in quinta pagina e la reputazione sarebbe assolutamente ricordo male nel caso Tortora appunto lui viene eh tradotto nelle patrie galere come si dice in questi casi eh c'è un processo poi alla fine del processo comunque lui riesce scagionato alla fine giusto no? quindi diciamo che la giustizia molto male ma il suo decorso lo fa e lo fa eh con un finale eh buono diciamo più o meno giusto? certo ecco adesso forse mi viene da dire i tribunali sono stati anche esautorati da questo loro compito perché ci pensa direttamente l'opinione pubblica esatto e poi secondo me come diceva Chico a quel tempo i grandi giornali erano la fonte di informazione adesso eh tutti diciamo così c'è una un'informazione molto molto più diciamo così dilatata poi c'è il web che fa insomma fa il suo e quindi è davvero molto più difficile diciamo così togliere quella macchia ed è anche molto più facile additare subito al mostro che è anche per la nostra diciamo così per la nostra diciamo per il nostro modo oggi sì per il nostro modo oggi è molto più facile dire quello è il mostro allontanando da sé qualsiasi forma di diciamo così di oscurità e quindi è più facile dare subito la macchia di mostro e è molto più difficile poi invece capire effettivamente come sono andate le cose eccetera quindi Chico se fammi capire questo se non ne so niente del caso Tortora quanto posso apprezzare il tuo spettacolo invece sono uno che ne sa tanto perché devo venire a vedere il tuo spettacolo allora il diciamo che anche per persone che non sanno nulla anzi il target sono proprio le persone della mia età comunque persone che non c'erano e che quindi possono arrivare possono entrare in teatro e scoprire il caso Tortora quindi è possibile apprezzarlo non conoscendo nulla ovviamente poi se la storia interessa ci sono un sacco di materiale addirittura il post indagini hanno fatto una una puntata apposta sul caso Tortora che è molto più esaustiva ovviamente al mio spettacolo ma perché ha finalità diverse chi se lo ricorda bene diciamo forse ha anche un un impatto emotivo maggiore perché è la è la propria gioventù fondamentalmente quindi in entrambi i casi credo che che possa essere un'esperienza interessante posso dire solo un'ultima cosa siccome in questi giorni si parla molto no di atti politici secondo me il teatro è un atto politico e questo spettacolo è un atto politico cioè ci si occupa e ci si interessa della cosa comune no che è il nostro vivere che è la nostra storia in questo caso Kikodossi e Simone Tudda hanno fatto tutto un lavoro sulla memoria e sulla storia e fare teatro significa impegnarsi politicamente nel termine più diciamo così più originario possibile nel senso che ci si occupa di quello che ci riguarda e quello che ci riguarda è la nostra società e non aprire gli occhi e non guardare significa fermarsi e non voler far nulla Kikodossi col suo teatro fa teatro politico scusami se l'ho detto ma adesso oggi come oggi non credo che adesso Kikko leggerà un comunicato dove il teatro e il Fomucini si discosta dalle sue non credo proprio quindi anzi ben vengono questi momenti anzi Kikko ricordiamoci ricordaceli tu anzi proprio le coordinate e i tempi giusti per seguire nell'occhio siamo in scena fino al 18 di febbraio al teatro al Fomucini corso Buenos Aires 33 a Milano il 19 alle ore 21 saremo saremo al Cinema Metropolis di Paderno Dugnano e poi per adesso ci fermiamo un attimo riprenderemo poi con altre date a marzo aprile e poi l'anno prossimo se seguite cercate Kikko Dossi su Google i company così almeno potete seguire tutto quello che sarà per seguire lo spettacolo dell'occhio del labirinto che appunto ricordiamo in scena fino al 18 di febbraio qui al teatro del Fomucini e poi appunto seguite anche per le altre date grazie Kikko grazie a voi buon lavoro quindi anche stasera siete in scena quindi buon lavoro anzi ci vediamo a teatro ci vediamo a teatro non voglio dirgli tanta merda direttamente così cioè volevo funziona ancora funziona ancora non è che adesso arriva il comunicato del cristal radio che si discosta dal fatto che non posso dire tanta merda non credo Kikko grazie mille ciao grazie a voi buona giornata tuttavia non scappare che c'è ancora dei consigli da darci siamo qua adesso ricchi e poveri ma non tutta la vita che vediamo a teatro che vediamo a teatro grazie a teatro